Tenute Rubino è un'azienda molto giovane, è stata fondata nel 1999 da Luigi Rubino e da mio marito, quindi è un'azienda di carattere familiare. Ci troviamo a Brindisi, che è una piccola città pugliese che si affaccia sul mare Adriatico. Dal punto di vista vitivinicolo ci troviamo in condizioni pedoclimatiche molto particolari. Trattiamo i grandi classici, quindi Primitivo, Negramaro, ma trattiamo anche delle chicche, insomma, dei varietali autottoni molto meno diffuse rispetto a questi altri due varietali, in maniera particolare il Susumaniello, che è un vitigno autottono che si trova soltanto nell'agro di Brindisi. Lo si trova anche spalmato in altre parti ma nasce nell'agro di Brindisi. Già il nome di per sé parla molto di questo vitigno, si chiama Susumaniello ed è un nome dialettale che sa indicare il somarello nero e un po' esprime le caratteristiche di questo vitigno, ovvero un vitigno che da giovane si carica molto di uva, tanto, per poi man mano che cresce, man mano che diventa anziano, produrre sempre meno. Motivo per cui questo vitigno nel passato andava abbandonato, o meglio lo si utilizzava da giovane per poi lasciarlo in pianta man mano che invecchiava. Ovviamente era una consuetudine che apparteneva soprattutto al passato per coloro che erano più interessati alla quantità piuttosto che alla qualità. Esattamente il contrario per i giovani produttori moderni che sono molto più incentrati ovviamente sulla qualità. Quindi un vitigno che produce meno è sicuramente un vitigno da tenere nel proprio patrimonio. Sta andando molto bene non solo per l'azienda ma direi in generale per la Puglia. Sappiamo che in questo momento la Puglia è sotto i riflettori anche da questo punto di vista, non solo turistico ma anche dal punto di vista enogastronomico, per cui c'è un'affluenza molto mirata. Vengono perché vogliono venire a trovarci e questo ci fa piacere, è indice del cambiamento in corso.